Allora, in Google Documenti, così come in Google Presentazioni, possiamo incorporare immagini utilizzando il menu Inserisci e scegliendo Inserisci Immagine. Possiamo inoltre inserire link all'interno della nostra immagine selezionando la voce Inserisci Link oppure usando la scorciatoia di tastiera CTRL più K. Ovviamente possiamo far sì che il nostro link ci indirizzi non solo verso indirizzi web esterni al documento ma anche a intestazioni interne al documento.